Famiglie piegate dalla crisi economica sono tante, diventano spesso invisibili però perché nonostante il dolore e la difficoltà a questi si aggiunge la vergogna. Non chiedono aiuto e così diventa sempre più complicato provvedere loro. A Roseto nasce un'iniziativa volta a ridare dignità a queste famiglie. La difficoltà economica non è una colpa, ma una realtà e allora l'associazione Brucare Onlus decide di istituire una giornata per chiedere aiuto a tutti gli abitanti di Roseto. Una spesa collettiva dove regalare generi di prima necessità a chi non può provvedere per sé e per i propri familiari. E con familiari, ci tiene a specificarlo l'associazione, si parla anche di bambini e nonni. Nessuno dimentichi i nonni, dice il presidente. Per noi la beneficenza si fa ma non si dice, ma in questo caso ho deciso, magari senza riflettere un attimo, che è ovvio che dobbiamo dirla perché noi rositani abbiamo veramente nel sangue la voglia di aiutare e di aiutare magari, che ti devo dire, può essere il vecchietto che vive di stendi e il bambino che va a scuola con mio figlio che magari a casa non ha nulla. Cinque supermercati metteranno in bella vista l'elenco della spesa. Sono stati selezionati i generi alimentari necessari a quelle famiglie che hanno chiesto timidamente aiuto. Saranno presenti anche i volontari dell'associazione, dunque trasparenza innanzitutto. L'appuntamento è per domenica, 21 dicembre, presso l'MD e il Tigre di Campo a Mare e poi l'Oasi di Roseto, il Tigre di Roseto lato nord e infine il Conad di Cologna. Sarà una raccolta mirata dove praticamente i cittadini troveranno una grossa lista della spesa. Invitiamo tutti ad acquistare da 1 a 4, 5 euro, non so che cosa, ma ad acquistare mirati. Il progetto si chiama, questa raccolta si chiamerà Aiutiamo Roseto, perché io sono convinto che i rosetani possano aiutare le stesse famiglie, magari il vicino di casa che ha difficoltà.